Come fai a pareggiare col Venecio? Come fai? Come fai? Come fai? Aramu, Aramu, contro le Big si sveglia quello, non segnava da quando aveva fatto con le Assis contro la Roma, Aramu. Ma questo perché siete handicappati che non l'avete chiusa prima. Amiche e amici appassionati di grande calcio, buonasera e benvenuti su Menoficiare ragazzi, parliamo appunto di questo incontro della Dicia, settesima giornata del massimo, campionato di calcio di Serie A, terzo anticipo, Venezia e Juventus 1-1. No, affondiamo in laguna, quasi affondiamo in laguna. Cioè ragazzi, questo perché tu non l'hai chiusa la partita, Juventus è sfortunatissima perché Dybala ti si rompe i primi minuti, infortunio muscolare, speriamo nulla per il giocatore della Juve, mancano ancora due partite alla fine dell'anno solare, speriamo che vada tutto bene perché veramente le smadonne sono dietro l'angolo. Oppure perché la Fiorentina ha vinto, quindi essendo la Fiorentina ha vinto, la Juventus ha pareggiato, stanno a più due adesso. Era una partita da vincere questa, contro il Venezia. Io purtroppo, siccome seguo il calcio da 15 anni, io ce levo il sentore in mente, io lo dicevo, io lo dicevo cavolo, lo dicevo. Guardate che andare a giocare contro di loro è dura in casa, è dura. Il Venezia potenzialmente in casa potrebbe fare qualsiasi cosa, potrebbe prendere 10 gol dalla Salernitana così come fermare il Napoli. Cioè veramente, una partita brutta, ancora una volta una partita brutta, che viene sbloccata grazie a una rete di rapina da parte di Morata. Cioè ragazzi, oggi Morata è stato il meno peggio della Juve, è stato quello che si è sbattuto di più ed è assurda questa cosa. Cioè se tu in una squadra X hai Morata che è il meno peggio della squadra, il migliore della squadra, vuol dire che la tua squadra è davvero una squadra di pipponi. Salvo forse anche Locatelli, perché ha sempre dato il ritmo alla manovra, però poco altro. E salvo Pellegrini, che è sempre più una bella scoperta da parte di Massimiliano Allegri, che è iniziata a dargli fiducia, iniziata a dargli un minutaggio importante, a dispetto di un Alessandro sempre più impresentabile. E per il resto è una squadra competente da buttare. Cioè veramente, mi esce di bala e mi entra... e mi entra Caio Giorgio. Caio Giorgio è veramente inutile. Tant'è che dopo che arriva il gol, gol fra l'altro abbastanza fortunoso da parte di Aramu, col pallone che gli capita fra i piedi abbastanza in maniera casuale, poi tiro bellissimo, addirittura distinco, da parte di Aramu a girare, con Cesni, che forse poteva fare qualcosina di più. Io lo credo che poteva fare qualcosina di più. Successivamente la Juve ha un attimo di scoramento, infatti Pellegrini fa una chiusura importante, in un'avanzata importante da parte del Venezia, e dopodiché torna la Juve a provare a segnare. L'occasione più importante è sui piedi di Bernardeschi, che tira veramente a botta sicura. Il problema è che veramente Romero si supera, si supera un intervento davvero clamoroso. Io ho sentito nel gruppo del Fantacalcio, del Fantamollerini soprattutto parliamo, moltissime persone lamentarsi dell'arbitraggio di Valeri. Tu come fai a lamentarti dell'arbitraggio di Valeri? Tu dirai, eh, però c'era da espellere Ampado per doppia munizione e tutte queste cose qua. Io credo che quando tu vai a pareggiare contro il Venezia e ti chiami Juventus, l'unica cosa a cui devi appellarti sono gli arbitri, scusate, l'ultima cosa a cui ti devi appellare sono gli arbitri. Cioè vuol dire che hai fatto schifo, hai fatto pietà per pareggiare contro una neopromossa, il Venezia, il Venezia. Detto questo, io spero vivamente che la squadra di Zanetti si salvi, perché merita, secondo me, la categoria. Vediamo un attimo anche la loro situazione di classifica per brevità di sorta. Aspettate un attimo, vediamo se ci siamo. Eccola qui. Venezia, 16 punti, più 6 dalla zona calda della classifica rappresentata col Cagliari, che però domani è una partita quasi proibitiva, contro il Napoli. Quindi, no, contro l'Inter. Quindi per un turno potrebbe essere tranquilla. Detto questo, spero che vi sia piaciuto, se fosse così, lasciate un'altra iscrizione. Dite un po' voi la UE, come si classificherà alla fine di questo campionato di Serie A. Noi ci vediamo in un prossimo video. E niente, ciao belli!